Francesca Grazie 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 Tra le scuole Questa cosa cosa potete prendere le scadi per arrivare all'ascensore? Bene Non è un po' scomoda per i disabili? Si Aspetta Ehi, il Trico mi sa Sì, sì Guarda, è carino Fiamma, era un fiamma Avevamo singola chiamata Siamo già arrivati Vediamo se c'è la chiamata Ti pareva che ce l'avevo? Ho scritto molto abbastanza velocemente le porte Sì Siamo arrivati Sì 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 Sì